Grazie a un accordo che ha stipulato la Regione Lumbria con la Municipalità di Chongqing c'è stato questo accordo che abbiamo fatto anche noi con il Dipartimento di Protezione Ambientale in merito ad alcuni aspetti che riguardano la tutela dell'ambiente. Noi siamo a conoscenza dell'interesse sempre crescente della Cina sugli aspetti di carattere ambientale e per questo abbiamo intavolato questo tavolo tecnico di confronto, per noi molto utile, di questo siamo onorati per scambi appunto di esperienze di carattere ambientale in tema soprattutto di emissioni di acque, di rifiuti della presentazione che abbiamo fatto prima io credo che la nostra collaborazione con Arpa Umbria avremo un grande successo nel futuro. Nel settore atmosferico di acqua, trattamento delle flue, trattamento della discarica ce ne abbiamo tanto da imparare dall'Arpa Umbria. I nostri colleghi italiani hanno tante esperienze nel settore, ci hanno aperto gli occhi anche credo che ce ne abbiamo molto da imparare da loro. Credo che nel futuro avremo una collaborazione molto stretta nel settore. Stiamo adesso cercando di approfondire alcuni aspetti di interesse del Dipartimento Ambiente di Chongqing nel corso dei prossimi mesi forse una nostra delegazione andrà a Chongqing per mettere a punto alcuni aspetti specifici e poi iniziare nel 2016 una collaborazione di scambio che sicuramente sarà di interesse e di crescita culturale e professionale per entrambi le due esperienze. Grazie. Grazie.